È uno degli strumenti perché certamente non sarà questo strumento a risolvere i gravi problemi della nostra regione ma sarà questo strumento insieme al piano sociale, insieme alle azioni dell'FSE che cercheranno di dare una risposta ai poverissimi, uno strumento di inclusione attiva proprio perché dal 2 settembre i cittadini abruzzesi che hanno una famiglia con un reddito inferiore o pare a 3.000 euro quindi con dei minori a carico, con dei disabili a carico o con una donna in stato di gravidanza potranno andare nei loro comuni, non in regione, nei loro comuni o meglio nei comuni in cui è sede l'ambito sociale e chiedere questo strumento di inclusione attiva. Perché di inclusione attiva? Perché in cambio di un aiuto economico alle famiglie la famiglia sarà presa in carico dagli assistenti sociali e la famiglia quindi dovrà attraverso il capo famiglia dovrà prendere degli impegni per uscire dal proprio stato di disagio daremo degli strumenti anche per far sì che questo possa avvenire quindi saranno attivati dei tirocini nelle aziende, saranno attivati dei percorsi di sostegno psicologico saranno indirizzati, se ci sono problemi di altro genere, saranno indirizzati nei servizi e quindi ci sarà una verifica di questo percorso di sostegno, non economico ma di altro tipo, sulle famiglie.